Ciao a tutti, sono Mr.Dy e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlerò come far germogliare i semi del limone. Useremo una tecnica semplicissima dove vi spiegherò passo dopo passo come farli germogliare in poco tempo. Se continuate a seguire questo video, abbiamo bisogno di un recipiente e poi dei nostri semi, poi avremo bisogno del cotone per poter riempire. Una bottiglia d'acqua, faremo dei fori nel tappo per poter innaffiare. Una volta che abbiamo tutti questi strumenti per poter lavorare, iniziamo subito il procedimento. Iniziamo a mettere il cotone nel recipiente. Una volta riempito il recipiente di cotone, prendiamo i nostri semi e un bicchiere. Riempiamo il bicchiere con l'acqua. Cosa faremo adesso? immergeremo i nostri semi nell'acqua. Riempiremo almeno per qualche oretta, così potranno essere più facili da poter sbucciare. Perché facciamo così? Perché così la germogliazione sarà più rapida, togliendo il primo strato della buccia. non saranno più due mesi, ma sarà massimo un mese. Sbucciamo i semi che ci servono. Una volta sbucciati, il semi dovrà essere con questo strato qui, marroncino. Una volta che abbiamo sbucciato i semi che ci servono, potremo metterli sopra il cotone. E poi li copriamo leggermente. Sbucciati. Sbucciati. E poi... ... ... ... ... Ora copriamo tutti i nostri semi con il cotone e ora potremo bagnare il cotone lasciandolo umido, non troppo bagnato. Una volta che abbiamo innaffiato lo metteremo in una zona dove sarà soleggiato, così. E se avete dubbi o domande commentate e se vi piace questo video lasciate un like oppure iscrivetevi al mio canale. Ciao a tutti!